Voga 2016, persona morta con cui ti piacerebbe prendere un drink. Faccio la stessa premessa che aveva fatto Rob Dike, diciamo che ho il TARDIS, quindi che posso tornare indietro nel tempo e incontrare una persona che non c'è più, e non ho problemi di lingua. Ora, la persona che mi piacerebbe incontrare è Giulio Cesare, mi piacerebbe potermi sedere, poter prendere un drink e chiacchierare un po' sulla strategia militare, sul funzionamento dell'esercito nell'antica Roma. Questa è la persona con cui sarei curioso di, appunto, fare questa chiacchierata. E tu, invece, c'è una persona morta con cui ti piacerebbe prendere un drink e sederti, parlare con questa persona? Fammelo sapere in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, questo è Voga 2016, noi ci vediamo domani.